I leader del mondo si sono riuniti a Gerusalemme per i funerali dell'ex premier ed ex presidente israeliano, premio Nobel per la pace, Shimon Peres, morto a seguito delle complicazioni di un ictus. Dal presidente americano Barack Obama al principe Carlo d'Inghilterra, da Nicolas Sarkozy a François Hollande all'ex presidente americano Bill Clinton, visibilmente commosso che lo ha definito un genio con un grande cuore e che nel 93 fu il promotore degli accordi di pace di Oslo, fino a John Kerry e al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Presenti anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen che si sono stretti la mano prima della cerimonia. Circa 70 paesi sono rappresentati alle esequie, un segno del rispetto che Peres, 93 anni, acquisì nel tempo, passando da falco militarista a sostenitore della pace. L'ultimo evento di questa portata furono nel 95 i funerali di Rabin, assassinato da un estremista israeliano contrario alla pace. Peres sarà sepolto accanto a lui, suo ex rivale politico nel partito laborista.